Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Incendia la casa e minaccia di morte al rivale Inamore, arrestato a Pesaro con due complici Omicidio Andraferri, confermato l'ergassolo per Sabano, vi è ridotta la condanna da 24 a 20 anni per il complice Carimbari Furti a Manfrigni, le voci dei genitori che per protesta vanno a prendere in anticipo i loro bambini Promesse, 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 sempre rimandate e mai mantenute Referendum Sanità, venerdì una manifestazione in piazza 20 Settembre a Fano per consegnare le firme al sindaco Seri In marcia da Vasto a Bruxelles, in nome dei figli, prosegue la battaglia di Papi Gamp a favore dei padri separati Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Come avete sentito dai titoli, la polizia di Pesaro ha arrestato tre persone Di cui due albanese e un italiano che per motivi passionali ma anche per vendetta Hanno minacciato di morte una giovane coppia Un episodio che, come sentirete dal prossimo servizio, poteva trasformarsi in tragedia Incendio doloso, minacce aggravate, porto ingiustificato di armi da taglio Sono questi reati contestati a un pugliese, Francesco Giovannelli, di 32 anni E due albanesi, Gesim Uti, 38enne e Jetmir Velia, di 22 anni, tutti residenti a Pesaro Il terzetto, che vanta un lungo curriculum criminale, aveva pianificato un'aggressione nei confronti di una coppia Perché la settimana precedente, una delle vittime aveva colpito con un pugno la sorella di uno di loro E questo era uno sgarbo da vendicare Inoltre, la fidanzata era la ex del fratello di uno degli albanesi Così, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, hanno dato fuoco all'abitazione in cui si trovava la coppia In via Boiardo a Pesaro Ed erano pronti ad ulteriori azioni se non ci fosse stata una pattuglia delle volanti pronta a bloccare gli aggressori È stato fondamentale l'intuito dei due operatori, che erano un uomo e una donna, questo tengo a precisarlo Hanno scongiurato conseguenze ulteriori molto gravi L'intervento della polizia è scattato dopo una chiamata da parte della ragazza Che ha segnalato un furto nell'abitazione Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno constatato invece Che il grosso botto che la giovane aveva sentito proveniva dalla stanza da bagno Dove il vetro di questa finestra era letteralmente andato in frantumi, ma a causa di un incendio I poliziotti hanno infatti accertato che ad innescare il rogo è stato il terzetto Che poco prima si era introdotto nel giardino di casa e aveva lanciato del materiale infiammabile contro gli infissi Il rogo, che a mano a mano si stava propagando all'interno, è stato spento grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco E mentre gli agenti erano dentro la casa, è arrivata sul telefono della ragazza una chiamata Da parte di uno dei tre soggetti, nella quale l'interlocutore le ha chiesto, con toni di sfida, se le fosse piaciuto il giochetto I poliziotti, che hanno ascoltato in viva voce la conversazione, hanno suggerito al giovane di organizzare subito un incontro E consentire loro di nascondersi e appostarsi per un pronto intervento Dopo circa dieci minuti è arrivato il gruppetto armato di coltello, che non si è accorto della presenza della polizia E che quindi è entrato nel giardino per affrontare il ragazzo Ai primi tentativi di violenza, dopo averlo minacciato di morte, il trio è stato bloccato dalle forze dell'ordine Indipendentemente dalla presenza delle forze dell'ordine, essendo appunto pregiudicati senza pudore Durante i momenti in cui venivano portati via continuavano a minacciare, dicendo anche che avrebbero fatto loro pagare questa situazione Nel momento in cui sarebbero stati liberi Due albanesi e l'italiano, che davanti al giudice hanno pure negato tutto, sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria Che ne ha convalidato l'arresto e li ha posti ai domiciliari Dimostrazione che ogni singolo poliziotto è in grado di svolgere attività sul momento e di operare degli arresti veramente importanti Arresti di personaggi di questo calibro, con grossi precedenti penali Poliziotti bravi e coraggiosi, ma siamo sempre di meno L'operazione di polizia è stata così commentata da Marco Lanzi, segretario provinciale del sindacato di polizia Che lamenta una carenza di organico, infatti in una nota Lanzi spiega che due sovrintendenti dal prossimo 2 maggio saranno trasferiti in altre sedi Il sindacato inoltre ha chiesto a questore Laureola di premiare con importanti onoreficenze I due colleghi che con coraggio e professionalità, ha detto il segretario, sono riusciti ad arrestare tre pregiudicati con numerosi precedenti penali E ad impedire che si verificassero fatti ben più gravi E dopo i numerosi furti e le intrusioni che si sono verificate all'asilo Manfrini a Fano I genitori dei piccoli alunni continuano a chiedere più sicurezza ma anche più igiene In segno di protesta, alcune famiglie questa mattina non hanno lasciato pranzare i loro bambini nella scuola dell'infanzia Oggi molte famiglie hanno deciso di andare a prendere prima i loro figli, come mai? Per segno di protesta, questo è un piccolo inizio dove comunque non ci sentiamo di poter lasciare i nostri figli a mangiare In una situazione dove non è stata sanificata in maniera adeguata Questo è il primo passo, poi ovviamente si pensava anche di non pagare la prossima retta scolastica Perché abbiamo chiesto allarmi, abbiamo chiesto misure di sicurezza adeguate Promesse, 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 sempre rimandate e mai mantenute Insomma, continuate ad essere preoccupate? Siamo molto preoccupate per la salute dei nostri bambini e per la sicurezza dei nostri bambini Abbiamo fatto un incontro dove ci avevano assicurato delle cose E queste non sono state portate a termine Che questo asilo venga messo in sicurezza e che venga pulito a fondo Prendano una società di sanificazione, chiudono, non vogliono chiudere, va benissimo Venerdì pomeriggio e tutto sabato hanno tutto il tempo di pulire la stanza di psicomotricità Dove ci sono i tappetoni dove i bambini rotolano, giocano, hanno in bocca, hanno tre anni Ci rendiamo conto, possono prendere qualunque malattia L'importante è il bene dei bambini e mi sembra che non viene preso in considerazione Anzi, quello che ci troviamo a fare, a perdere energie e tempo è andare contro l'amministrazione Che invece dovrebbe essere un nostro alleato Questa è più di un mese, ci hanno fatto tante promesse e nessuno si è mossa Secondo voi sono importanti e necessarie anche le telecamere di videosorveglianza? Più delle telecamere, cosa possono mettere? Telecamere e allarme, dare delle informazioni più tempestive e sanificare meglio gli ambienti Dopo l'ultima intrusione sono stati messi alcuni chiavi stelle, secondo voi sono sufficienti? No, perché sono molto piccoli e tra l'altro le finestre sono scorrevoli E quindi basta un semplice calcio o comunque rompere il vetro per poter comunque aprire senza problemi le finestre Infatti anche in quest'ultima incursione non si sa da dove sono entrati Perché non ci sono segni di scassinamento Quindi non si può ancora una volta sapere con certezza da dove sono entrati Quindi capire bene il percorso che hanno fatto Quindi a maggior ragione ribadiamo che va sanificato tutto l'ambiente E non solo la cucina come hanno fatto l'ultima volta Siete stati avvisati in tempo? No, non siamo stati avvisati in tempo perché noi avevamo chiesto precedentemente Comunque di poter avere almeno un cartello all'ingresso dell'asilo, della scuola materna Dove praticamente veniva scritto una eventuale ennesima incursione E anche questa volta invece non è stato appeso alle 7.45 della mattina Ma bensì dalle 8.15 in poi Perché le maestre arrivano alle 8, le bidelle alle 7.75 E non hanno comunque l'autorità per poter prendere queste decisioni Anche lei oggi ha deciso di andare a prendere suo figlio anticipatamente Quindi un modo per protestare? Sì, è una protesta perché vediamo che con tutte le richieste fatte da tutti i genitori Vediamo che poche cose vengono fatte Ecco, io me lo stavo vedendo anche in questo momento C'è dentro, non so se c'è un falegname Ma io l'ho fatto a 20 anni insomma Il falegname sta mettendo dei chiavestelli così fini fini Che con una botta insomma che li porti via Sì, è una protesta Ma non tanto per noi Ecco, è per loro E tutti i bimbi mangiano lì E c'è una preoccupazione Non stiamo sentendo anche noi con la mia compagna insomma un avvocato Per vedere perché Che per me insomma va fatto qualcosa di forte Ecco, perché se no non si smuove niente Sua figlia frequenterà ancora per pochi mesi l'asilo Però insomma ci tiene ad essere qua per protestare? Sì, ci tengo Anche perché comunque sia Anche negli anni indietro sono entrati Però non è mai stato detto niente Per quanto sia Mia figlia ha ancora due mesi Qui dentro ci deve mangiare Ci deve giocare Cioè, pretendo che comunque venga fatto qualcosa È una cattiva pubblicità anche per la scuola Manfrini Perché io personalmente se sento una pubblicità così Non so se l'anno prossimo mio figlio lo inserisco in questo asilo E ancora cronaca La Corte di Appello di Ancona ha confermato La condanna all'ergassolo per Donald Sabano Ve inflitta in primo grado al 27enne albanese Per l'omicidio dell'imprenditore pesarese Andrea Ferri Sudatore di lavoro Ridotta invece la condanna da 24 a 20 anni per Karim Bari Il 26enne marocchino, suo complice Al corrente del fatto che Sabano voleva uccidere Ferri Per rubargli la chiave del distributore Tamoil di Montecchio Dove custodiva gli incassi Andrea Ferri, 51 anni, sposato due figli Era stato ucciso nella notte fra il 3 e il 4 giugno 2013 Per strada a Pesaro con 5 colpi di pistola L'ultimo alla schiena come colpo di grazia Sparati con un'arma calibro 7,65 E poi ritrovata con tracce del DNA di Sabano Adesso invece torniamo a parlare di sanità Perché le forze politiche che si sono schierate E si sono unite contro la sanità privata E contro l'ospedale unico Venerdì sera scenderanno in piazza Atto conclusivo per le forze politiche Che hanno dato il via il mese scorso Ad una raccolta firme per indire un referendum sulla sanità Dopo i banchetti allestiti lungo corso Matteotti Venerdì sera alle 20.30 scenderanno Uniti in piazza 20 Settembre a Fano Per consegnare la lunga lista di adesioni Al sindaco Massimo Seri Il comitato che ha sostenuto l'iniziativa Denominata Io firmo per la salute È composta dal Movimento 5 Stelle Da Bene Comune, Possibile, Lato Afano Da Riscossa Fanese Dal Movimento Radical Socialista E dal Partito Repubblicano Venerdì sera abbiamo organizzato questa manifestazione Che sarà il momento conclusivo di questo mese di raccolta firme Ancora non abbiamo avuto risposta dal sindaco Che abbiamo invitato formalmente Siamo andati personalmente a invitarlo nel suo ufficio Ha detto che ci avrebbe fatto sapere Ancora non abbiamo saputo nulla Naturalmente l'invito è quello Alla cittadinanza di partecipare numerose Non abbiamo grossi dubbi Perché l'adesione durante i banchetti È stata veramente molto forte File i banchetti Fino ad oggi abbiamo concluso la raccolta firme Siamo arrivati a 3600 firme Questa iniziativa invito è aperto alla cittadinanza Certo, infatti invitiamo la cittadinanza A partecipare numerosa Visto che parliamo sempre di sanità Sempre di ospedale Ed è ora di farsi sentire Quindi venite tutti in piazza E fatevi sentire Difendiamo la nostra sanità pubblica Abbiamo un aggiornamento in merito alle firme raccolte Perché dovrebbero essere ormai sulle 3800 Torniamo a parlare della fusione dei comuni Perché dopo le dimissioni del sindaco di Tavoleto Oggi li hanno rassegnato anche i sette consiglieri di maggioranza E visto che le dimissioni in totale riguardano oltre metà dei consiglieri Il prefetto di Pesore Urbino Luigi Pizzi Ha dato avvio alle procedure per lo scioglimento e la sospensione di quel consiglio comunale Nominando come commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente La dottoressa Patrizia Claudia De Angelis Vice prefetto aggiunto Al commissario sono state attribuite le funzioni del sindaco Della giunta comunale e del consiglio Poi le elezioni del sindaco e del consiglio stesso Si svolgeranno nel prossimo turno elettorale Utile a primavera 2017 Buone notizie invece per le trattative in sede europea sulle dimensioni delle vongole Lo rende noto il consigliere regionale di area popolare Mirko Carloni Oltre all'autorizzazione della pesca a volante per il pesce azzurro in Adriatico Spiega Carloni Ci sono novità positive per la diminuzione della taglia minima delle vongole A 22 millimetri Che sta andando avanti come auspicato dal governo italiano Tramite il sottosegretario Giuseppe Castiglione Speriamo, ha concluso Carloni Che l'estate prossima sia già adottabile la nuova misura Come richiesto con forza dalla flotta marchigiana Domani sera invece torna il programma di Fano TV Dedicato alla salute Quindi i medici dell'azienda sanitaria Marche Nord Saranno nei nostri studi per rispondere in diretta alle vostre domande Nel prossimo servizio sentiamo su che cosa sarà incentrata la terza puntata Giovedì prossimo torna l'appuntamento con la salute pubblica Dopo il telegiornale Occhio alla Notizia alle 20.45 Le nuove frontiere in campo di chirurgia endoscopica Con strumentazioni all'avanguardia nelle Marche Oltre al centro di riferimento regionale per i disturbi respiratori nel sonno Ed il reparto integrato di Ottorino, Laringo e Iatria di Marche Nord Saranno gli argomenti di questa terza puntata di Missione Salute Dove il dottor Giuseppe Migliori, primario dell'unità operativa Ci guiderà all'interno del mondo della chirurgia Degli interventi e delle prestazioni date in ambito Torino Parleremo o cercheremo di far capire prima cosa Che cos'è la specialistica di Ottorino e la ringoiatria E quali sono i distretti di pertinenza Poi parleremo di quelle che sono le attività De Ottorino e la ringoiatria di Marche Nord Deputate alla diagnosi e al trattamento chirurgico Sia dei bambini che degli adulti Di pertinenza a Ottorino e la ringoiatria Quindi dei distretti testa-collo Da tempo vi occupate anche dei disturbi del sonno Anche questo sarà un argomento della puntata Sì, sarà un argomento anche questo E dal 98 che ci occupiamo dei disturbi del sonno E per questo intendiamo sia la roncopatia Quindi il comune russamento Che le appanee del sonno Abbiamo sviluppato una competenza Che ci è stata riconosciuta oramai a livello nazionale Anche con un accreditamento da parte della Regione Marche Come centro di riferimento regionale E stiamo enormemente incrementando Quelle che sono le possibilità di afferenza A questo centro da parte della popolazione Nella seconda parte della puntata Come sempre voi telespettatori Potrete rivolgere domande e osservazioni Direttamente ai medici ospiti in studio Attraverso le telefonate Chiamando Fanotv Allo 0721 86 1433 Dalle 20.45 in poi Dopo il Tg Occhio alla notizia In marcia da Vasto a Bruxelles In nome dei figli Ripresa anche quest'anno La battaglia di Antonio Borromeo In arte Papi Gamp In favore dei padri separati Servizio di Lino Balestra I padri separati Che vivono in condizioni Di disagio economico e sociale Ai limiti dell'accattonaggio A causa dell'impossibilità A pagarsi un affitto E riprendere in mano la loro vita E che sempre più spesso ritroviamo Nelle file della Caritas Sono una realtà Sempre più frequente della nostra società Per loro e per i loro figli Vittime inconsapevoli Di faide familiari Che Antonio Borromeo Padre separato Da quattro anni Parte da Vasto Il 25 aprile In marcia Verso Bruxelles Per perorare I suoi e i loro diritti Tappa obbligatoria Nella sua marcia Anche quest'anno Fano Nella casa famiglia Per padri separati Allestita negli ambienti Della parrocchia Di San Cristoforo Ad accoglierlo Oltre a Don Mauro Roberto Zaffini E Alessandro Sandroni Che sostengono entrambi La sua causa Continuiamo Andiamo avanti Ogni tanto riusciamo Ad ottenere qualcosina Un po' qui Un po' lì Questa volta Si va in giro Per discutere Un po' Di quelle che sono Le case Famiglia Rivedere un po' L'organizzazione Degli assistenti sociali Questo Per certi versi Alcuni strapotere Che hanno Dove poi Spesso combinano Dei guai Purtroppo i guai Però poi Ricadono Sulle spalle Dei bambini Non vedete più E dice In attesa Che indaghiamo Verifichiamo Se effettivamente C'è questo conflitto Il bambino Va nella casa Famiglia E da lì Cominciano i guai Perché quel bambino Prima dei due anni Da lì Non esce più Un caso unico in Italia La casa di accoglienza Creata in collaborazione Con la Caritas Diocesana Che dal 2013 Ha dato ospitalità A sette padri In difficoltà Come ci dice Lo stesso padre Mauro Nel 2013 Abbiamo aperto Questa casa Chiamata appunto Padre sempre Perché Nelle situazioni Di separazione Di sofferenza In queste situazioni Tra i coniugi Una certezza È che uno rimane Sempre padre E allora Questi padri Purtroppo abbiamo visto Che erano delle persone Io li chiamo I nuovi poveri Perché erano In situazioni Di disagio Perché Avendo Il giudice Assegnato La casa Dove vivevano prima Al minore E il minore Viene tutelato Dalla madre Questi padri Non riescono A sostenere Un nuovo affitto E quindi Si trovano In mezzo alla strada Tant'è che Qualcuno di loro Abbiamo trovato A dormire in macchina Proprio perché Erano in queste situazioni Di disagio Cosa bella di quest'anno È che Da Madrid Proprio oggi È partito Da una delegazione Di genitori Che io A Dio piacendo Io incontrerò A Parigi E da lì Ci uniremo E andremo Il 24 Verso Cioè il 21 Ci uniremo E tra il 24 E il 25 Dovremmo stare A Bruxelles Dove ci riceveranno Alcuni europarlamentari Sia iberici Che nostri E questa è una cosa Nuova di quest'anno Ho saputo Che si sono uniti Anche due papà inglesi Sono partiti da Londra E si uniranno a noi A Parigi Quindi piano piano Ecco E continuano le iniziative Di beneficenza Organizzate da Ivan Cottini L'ex modello affetto Da sclerosi multipla Che domenica scorsa Si è presentato All'Adriatic Arena di Pesaro Durante una partita Di basket Della VL Indossando una maglietta Di Trevor Lacy La canotta Che porta il numero 7 Che è stata Autografata Anche dal campione Ario Costa Sarà donata Al reparto di ematologia Dell'ospedale San Salvatore di Pesaro Mentre i fondi raccolti Fra i vari tifosi Circa 200 euro Saranno devoluti Alla scuola elementare Di Montemaggiore Per l'acquisto Di una lavagna digitale L'obiettivo Come ci ha raccontato Ivan Cottini È quello Di arrivare Alla cifra Di 1000 euro E con questa notizia Di solidarietà Chiudiamo qui Il nostro telegiornale Vi ricordo Che questa sera Andrà in onda I riciclati speciali Il nuovo programma Del San Costanzo Show Allora Grazie per la vostra attenzione E buon proseguimento Di serata Grazie per la vostra attenzione Grazie per la vostra attenzione